Senta, ci sono 8 miliardi almeno per il taglio delle tasse, vanno tagliati più agli imprenditori o più agli operai? Inche su questo noi siamo stati molto chiari, non c'è chiaro dove vogliono mettere gli 8 miliardi perché li hanno stanziati e non si capisce ancora e sta diventando una battaglia di bandierine noi abbiamo detto taglio contributivo del cuneo fiscale quindi vuol dire mettere più soldi in tasca agli italiani e magari stimolare la domanda interna che è quella che è ferma totalmente da anni noi forse quest'anno faremo il record dell'export, 500 miliardi di export ma non possiamo pensare di giocarci sempre tutto e solo sull'export con tutti i problemi che si stanno verificando nel mondo e al contempo abbassare il costo del lavoro perché se vuole gliela semplifico noi abbiamo il costo delle materie prime che è schizzato alle stelle i costi energetici che stanno crescendo in maniera esponenziale l'unica componente su cui possiamo lavorare per rimanere competitivi è il costo del lavoro dobbiamo agire